Quel giorno entrai in galleria insieme a Linei per valutare la silece cristallina, praticamente sarebbero le polverine sottili e nessuno sapeva che l'acqua era contaminata da cromo esavarente. Purtroppo la sera venne detto dalla direzione di cantiere che l'acqua era contaminata di cromo. Io e Linei ci sarei lavorato tutta la mattina ma nessuno sapeva niente. Io chiaramente con la maglietta bagnata così, avendo un occhio solo, avendolo perso c'è un incidente, mi trovavo in cantiere e l'occhio me la cremava. All'inizio non sapevo che roba è successo perché essendo stata la manica imbagnata di questo liquido io mi toccavo l'occhio perché mi si era infiammato. Poi il giorno dopo mi senti male, andai a casa e andai all'ospedale. L'ospedale mi disse che non sapeva che roba era, era tutto l'occhio infiammato e di ritornare il giorno dopo. Il giorno dopo praticamente mi ritrovai il viso senza cigli, senza pelle. Da lì sono stato 20 giorni a casa, sono rientrato a lavorare e nel giro di una mattinata respirando quella cosa mi hai fatto tutto il viso, tutto pieno di piaghe, pieno di urcere. Praticamente poi dopo ho aperto l'infortunio e sono passato per 5 anni alle medicine del lavoro, Pisa, Siena, che tutti hanno diagnosticato la sensibilizzazione a metalli pesanti. C'è una malattia che non guarisce più. Di 7 anni ancora qualsiasi cosa, respiro, tocco, che sono metalli e sono ubiquitari, presenti sulla faccia della terra, dalle robe che si tiene in casa a quelle che tocchi tutti i giorni, come li tocco mi si sfoga in urcere, piaghe che mi guariscono in 5-6 mesi. Per cui non c'è una cura, non c'è più di niente. Lei vive in campagna? Sì, vivo in campagna vicino a mio babbo che ha 90 anni, per cui ho grandi contaminanti, ma tanto non riesco manco a scappare lì. E oggi tornando a Terni comunque ha riaccusato dei problemi di salute? Sì, già vengo con tutte le piaghe, è una cosa che non va mai via, assolutamente. Quindi non guaribile? No, non si guarisce, questo è stato detto dalla medicina. E terapie farmacologiche? Niente, perché ho il problema del glaucoma, queste ulcere venendo mi alzano la pressione indoculare e non mi possono dare cortisoidie. Quindi lei rischia di perdere la vista? Cioè nel tempo se questa pressione non si trova un rimedio per abbassarla, il problema con un occhio solo c'è anche da rimanere in cecità. Ecco, c'è un processo in corso, lei cosa chiede? Chiedo giustizia che ormai i tempi sono quasi in prescrizione, e chiedo che almeno il primo grado di giudizio mi venga effettuato, che sono sette anni che sono tribolari, tra ospedali, medicina del lavoro, Ina e le tribunali, per cui almeno chiedo giustizia nel primo grado civile. Che ripartire a fare il civile non finisce mai, è una cosa che non ne posso manco più. Lei ritiene che i responsabili, perlomeno i presunti responsabili individuali in questo processo, siano gli unici o ce ne siano anche altri? Ma penso che le responsabilità, loro ce l'hanno, ma responsabilità poi anche chi ha fatto passare quel lavoro sotto una galleria, non sotto una discarica. Cioè lì, secondo me, le responsabilità in primis è l'azienda, ma poi le responsabilità vanno attribuite anche all'Anas. Come hanno fatto? Poi da quello che ho letto, dopo che sono stato male, mi sono informato, mi è diventato tipo un film. Cioè, come mai hanno fatto passare una galleria sotto una discarica Tissen Group? Un sito da bonificare a livello italiano. E in più, c'è da dire, non avevamo fatto tutti i campionamenti, questa analisi prima le faccio passare quella galleria. Infatti dall'incidente provatorio si evince che quella galleria era tutta contaminata. Per cui non è che c'è altro da dire. Infine ci sono anche altri operai che hanno avuto la sua stessa sorte? Sì, stamattina ho trovato altri operai che avevano denunciato il fatto e interrogati dalla forestale che durante il processo dicevano che avevano stato male, hanno avuto delle dermatite simile a mia. Purtroppo i tempi non ci sono stati, il pubblico, il ministero, il giudice non li hanno sentiti, però parlare con loro che sono trovati lì dopo anni che non li rivedevo anche loro hanno causato dei problemi a livello dermatologico.